E fa sempre bene! Visto! Ve la faccio vedere senza corribilità Con la porta è giusto Qua solo attenzione c'è una buca perché ha voluto piovere C'è anche l'asfalto Penso a dire La retta traiettoria Si Qua si taglia tutto Poi Se volete mettere un po' più veloce Io lo sapete se è possibile Giustamente No, giustamente Questa è un finta dei piccoli Sì Faccio anche per farvi vedere la macchina Certo Quasi hai capito di andare fuori Sì 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 Per uscire così Per uscire così Almeno un po' Già prima la percorrere Perché c'è oggi in via In via In centro dietro Alla fine Ora vediamo la porta Ok Ognuno Ma Arrivata al circolo E' chi ti faccia una parte di vedere Sì Se non è la porta Con la porta Con la porta Con la porta Con la porta Ho fatto già le gomme E' la sinistra Facciamo il carico Per l'altro E' qui , non lo sempre gohame sulle bici Ci sono Buongiorno No C'è? 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 Avevo le volle Ah, ti ho capito a finire i strati e si salta. Non è la porta. Non è vero. Non riesci, ti dico di più, non lo so, non riesci nel canale perché è il tuo lavoro. Sto andando tanto, tanto no. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Sì, tranquillo per fargli spedire. No, non lo so, non lo so, ma dopo che le bicicletta è il 360, il 360, il 360, il 360. Sì, ci ringrazio.